Gentilissimi, bentrovati. In attesa della Fed, da cui si attende un taglio dei tassi allo 0,25% oppure allo 0,50%, come già accennato ieri, oggi in primo piano alcuni dati macro. Negli Stati Uniti i dati superano le stime degli analisti. La produzione industriale ad agosto registra un più 0,8%, mentre le vendite al dettaglio un più 0,1%. Peggiora l'indice ZEV tedesco a settembre, che registra 3,6 punti dai 19,2 punti di agosto. Il dato elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco, ZEV Institute, è inferiore alle attese degli analisti, che stimavano un peggioramento fino a 17,1 punti. Il Fuzzimib, che aveva sferato per ben due volte i 34.000, chiude sotto ai 33.800 con un progresso superiore allo 0,60%. L'andamento del DAX è similare e il rialzo segna un più 0,53%. Avvio più cauto a Wall Street con gli indici Nasdaq e Dow Jones, che stanno viaggiando a ridosso del mezzo punto di crescita. Il Nasdaq per ora è in vantaggio. Una piccola parentesi sull'argento, che si trova su una buona intonazione, proprio come l'oro. Vediamo infatti dal grafico giornaliero che si sta avvicinando ai massimi annuali, che si sono registrati a metà maggio. Di fatto l'argento è alla stessa seduta consecutiva di rialzi, accumulando quasi un guadagno complessivo a doppia cifra, a più 10% circa. Nelle scorse due sedute a Piazza Affari, Nexi aveva pagato lo scotto dei risultati deludenti da parte della concorrente francese Worldline. Oggi però si è concretizzato un brillante recupero, vicino al più 5, che ha cancellato le perdite appena menzionate. Ottima crescita anche per Iveco, che sale di 4,5 punti e si riporta sopra ai 9 euro per azione. Anche altri industriali sono stati protagonisti quest'oggi. Tenaris, per esempio, ha guadagnato il 3%, con una chiusura sui massimi. STM si lascia alle spalle la giornata negativa di ieri, in cui era stato maglia nera del Fuzzi Mib, risalendo del 2,73%. Il progresso di Prismian è invece pari a 2,15%. In una giornata che dunque è stata tendenzialmente positiva, a Leonardo è la nota peggiore di giornata. Il meno 4,48% odierno riporta il grafico sui livelli dello scorso 5 agosto, nonché, se escludiamo quella singola giornata, sui minimi di fine febbraio. Un solo altro titolo chiude con un passivo superiore al punto percentuale. Stiamo parlando di Monte dei Paschi, dopo che il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, ha raffreddato gli entusiasmi per l'eventuale acquisto del gruppo senese. Altri titoli con ribassi di minore impatto sono stati Campari, Generali e Diasorin. Sul Forex è ancora stabile l'euro-dollaro a quota 1,1 e 15, mentre accelera proprio in queste ultime ore l'euro-jene, portandosi sopra i 157 punti con un progresso del 0,65% circa, mentre l'incrocio euro-sterlina avanza di qualche decimo di punto. Ed ora, prima di concludere, cediamo la linea ad Alessandro Aldrovandi. Ospite delle interviste di Traderlink di oggi, Alessandro Aldrovandi, trader indipendente per dare uno sguardo insieme a lui, agli indici. A te, come sempre, la parola. Sì, buongiorno a tutti. Partirei, come al solito, dalla borsa italiana. Il nostro Future Fuzzimib, che si sta ben comportando, dopo aver toccato un supporto sul livello 33.000, sta iniziando un timido rimbalzo. Dopo la configurazione a forma di V, realizzata tra la metà di luglio e la fine di agosto, quella in corso è invece una configurazione a forma di U. con un po' di fantasia grafica, facendo riferimento alle figure di analisi tesica, il tutto potrebbe essere o raffigurarsi in una grande configurazione di cup and handle, la tazzina con il manico, che è una indicazione di natura rialzista e che potrebbe portare le quotazioni in primi, se ormai ci siamo, verso il livello 34.000, e poi più in alto verso il livello 34.500. Una situazione analoga la vediamo anche sul mercato tedesco, sul Future DAX, che addirittura ha toccato qualche seduta fa il proprio massimo storico, oltre alla soglia di 19.000 punti, e anche in questo caso sta realizzando una configurazione a forma di U, di stampo rialzista, che potrebbe portare presto i corsi verso il livello 19.000, soglia psicologica. Ricordo anche, passo in questo caso oltro oceano, per vedere che cosa succede a Wall Street, sullo Standard & Poor's 500, ricordo, dicevo, che domani, mercoledì 18 settembre, ci sarà la decisione da parte della Fed di abbassare il tagliare il tasso di interesse, siamo ancora in attesa di capire se questo tasso, che decisamente ci sarà, lo possiamo dare per certo, però non è ancora quantificato la misura, potrebbe essere uno 0,25, potrebbe essere uno 0,50. In entrambi i casi si tratta di una notizia positiva, che dovrebbe dare l'infa al mercato, e fare salire lo Standard & Poor's 500, che adesso sta su delle resistenze importanti, 5.660 era prima di queste resistenze, potrebbe permettere al mercato di salire oltre, con un bello spike realzista, andare fin verso 5.700, quindi avvicinarsi al proprio massimo storico del 5.720, quindi mercato con il vento in poppa, mercati azionari direi tutti impostati al rialzo, nonostante abbiano corso abbastanza nelle ultime due settimane. Perfetto, io ti ringrazio per la panoramica, con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. Grazie a te Rossana, buon treddito a tutti. Grazie Rossana e grazie Alessandro, grazie a voi per averci seguito, per oggi è tutto, non mi resta che salutarvi e rinnovarvi l'appuntamento, a domani, arrivederci. Grazie a tutti.